Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti ad Attenti al Lupo. Stasera parliamo delle marmellate e delle confetture, quanto le amano gli italiani, non solo al mattino presto, ma anche durante la giornata. Cercheremo di capirne qualcosa di più, soprattutto gli abbinamenti, ma anche e soprattutto come sceglierle nel migliore dei modi. Ci aiuteranno in questo viaggio tra le marmellate e le confetture del nostro paese due esperti, buonasera al dottor Dario Vista, nutrizionista e curatore della rubrica Il Nutrizionista sul salvagente, il mensile che tutti noi sappiamo a difesa dei consumatori, peraltro anche con un'inchiesta ultimamente proprio dedicata al mondo delle marmellate e delle confetture. Buonasera al dottor Lorenzo Bazzana, responsabile economico del Coldiretti. Buonasera Bazzana. Buonasera. Io direi di partire subito da una lettera che ci avete invitato a casa. Buonasera Mari. Buonasera, buonasera a te Giuseppe e ai nostri esperti pronti a rispondere a tutte le vostre domande che potete porre chiamando il nostro numero verde 800 508 990 è il numero che potete comporre sia da telefono fisso che da telefono mobile o se preferite potete scriverci via mail oppure sui social. Ovviamente la pagina che dovete cercare è quella di Attenti al Lupo. E allora Giuseppe diceva di partire subito da lettera. Non aspettiamo, vi anticipo subito che ce la scrive Beatrice da Pisa e dice cari amici di Attenti al Lupo, vi scrivo per avere un consiglio. Da quando mi hanno riscontrato alti livelli di glicemia nel sangue a colazione ho sostituito la marmellata classica che prendevo prima con una light. Secondo una mia amica però anche questo prodotto non va bene perché contiene dolcificanti di cui è meglio non abusare. È proprio così e nel caso qual è la dose giornaliera che posso quindi concedermi? Aiutiamo subito Beatrice. Allora subito chiederei al dottor Vista, queste light sono pericolose? Per la signora che ha diagnosticato un'iperglicemia o probabilmente forse anche un prediabete il fatto di avere degli edulcoranti non glucidici, quindi degli alcoli che non sono degli zuccheri non significa che il prodotto sia senza zuccheri. Comunque contiene gli zuccheri della frutta quindi può mangiarle però deve stare attenta. Il consiglio è mangiarli in una prima parte della giornata quando c'è dei livelli di insulina fisiologica un po' più alti. Quindi colazione, piccole quantità. Piccole quantità. Bazzana, cosa guardare con attenzione nell'etichetta? Iniziamo dalle marmellate che compriamo un po' tutti, perché poi c'è chi se le fa direttamente a casa vedremo quali sono i rischi e quali sono invece le opportunità. Ma andando al supermercato a comprare la marmellata, cosa bisogna stare attenti? Ovviamente gli ingredienti, nel senso che a seconda della tipologia di prodotto noi dovremmo vedere quant'è la frutta contenuta, quanti sono gli zuccheri aggiunti. In questo caso, ad esempio, se ci sono edulcoranti, ovvero se ci sono delle altre sostanze diverse da quelle che noi ci potremmo aspettare. Quindi dal punto di vista del prezzo del prodotto, delle qualità del prodotto, il fatto di leggere gli ingredienti ci dà comunque una misura, una indicazione di quello che poi può essere il corretto prezzo di questo prodotto. Vale sempre quel principio, un po' di tutti, meno ingredienti ci sono in quel barattolino di marmellata e più è una marmellata di qualità? Ovviamente noi ci aspettiamo che un prodotto di questo tipo abbia la sua eccellenza nel contenuto di frutta, per cui più è alto il contenuto di frutta, più questo prodotto dovrebbe essere un prodotto ai nostri occhi prezioso. Poi è chiaro che bisogna vedere se ci sono altre componenti, se ci sono altri ingredienti che ci possono far scegliere un prodotto piuttosto che un altro. Chi soffre, dottore, un po' di problemi di gastrite o cose del genere, ecco, che tipo di confettura, come si deve orientare? Ci sono delle tipologie consigliate ed altre, insomma, un po' da evitare? Meglio evitare, in questo caso, le marmellate. Poi spiegheremo tra pochissimo, perché c'è la questione marmellata e di confettura. No, più che marmellate, diciamo le marmellate di arancia, arancia e mandarino, perché ad esempio le marmellate di limone no, vanno benissimo per chi ha problemi di reflusso e di gastrite, in quanto l'acido citrico che è contenuto all'interno dei limoni riesce a neutralizzare, si lega al potassio, si lega a dei sali che abbiamo a livello dello stomaco per andare a provare ad avere un effetto alcalinizzante. Invece è meglio evitare le marmellate di arancia e le marmellate di mandarini. Ecco, vogliamo spiegare, perché insomma, prima anche l'altra domanda abbiamo parlato un attimo di questa spesa, la normativa che dice, insomma, poi noi comunemente andiamo al supermercato, andiamo al piccolo negozio, alla bottega artigianale e chiamiamo un po' tutte marmellate, però insomma la normativa in termini di legge e giuridiche dovrebbe essere un po' diversa, ce la spiega un attimo? Sì, la normativa, la legge 50 del 2004, che è un recepimento di una direttiva europea del 2011, dice che possiamo chiamare marmellata, le miscele di acqua, zucchero portate a consistenza gelatinosa e agrumi. Negli altri casi parliamo di confetture. Poi c'è una questione di percentuale di cui abbiamo parlato con il dottor Bazzana. Bazzana, Bazzana, insomma, dice che la cosa più importante è il quantitativo di frutta che c'è all'interno, se capisco bene. Anche rispetto a quello che si diceva prima, ovvero sia il discorso dell'acido citrico, ad esempio in alcune confetture è presente come stabilizzante dell'acido citrico, in altre ad esempio c'è il succo di limone. Ovviamente l'acido citrico non è la stessa cosa del succo di limone, quindi leggendo queste etichette noi possiamo fare alcuni ragionamenti rispetto ai contenuti di questi prodotti. Zucchero, zucchero di canna, anche qui è chiaro che gli zuccheri aggiunti diversi da quelli della frutta sono comunque zuccheri, non è che lo zucchero di canna sia poi diverso dallo zucchero di barbabietola. Quindi attenzione a leggere attentamente gli ingredienti. Ecco, a proposito degli ingredienti, per dare proprio un aiuto concreto alle persone che stanno a casa, andiamo a comprare una bella confettura. Ci sono confetture e confetture extra se non sbaglio, no? Queste sono le nominazioni. Qual è la differenza quando vediamo questo extra? Lo possiamo spiegare brevemente? Allora, sempre la stessa legge del 2004 dice che possiamo chiamare confettura extra, sempre questo insieme di acqua, zucchero e frutta, parti di frutta, che contengono almeno 450 grammi, quindi il 45% di frutta, tranne alcune d'ero che esistono a livello normativo, per alcune frutte tipo ribes, lo zenzero. Però sostanzialmente deve avere il 45%, quindi c'è una porzione consistente maggiore. L'altro caso? Confettura normale 35%. 35%, quindi quando è extra dovrebbe essere un po' più sostanzioso. A proposito della frutta, chiedo a Bazzana, la vogliamo fare un po' in casa o comunque vogliamo realizzarla in casa? La frutta deve essere matura, acerba? Qual è la situazione migliore per poter preparare delle confetture gustose da mangiare a casa? È chiaro che noi queste confetture le prepariamo facendo cuocere la frutta. Cuocere la frutta, se la frutta fosse acerba non è che ci dia un gran risultato. A noi servono gli zuccheri della frutta per poter rendere poi questo prodotto conservabile. È chiaro che se la frutta fosse acerba dovremmo aggiungere più zucchero di quello che aggiungeremo normalmente perché è già presente normalmente nella frutta. Quindi il consiglio è quello di utilizzare comunque della frutta matura, della frutta ovviamente possibilmente di stagione e quindi fare una scelta che si è improntata alla qualità anche nel momento in cui realizziamo una confettura casalinga. Abbiamo detto non solo la mattina sulla fetta biscottata, su un bel panino a magari caldo mangiare la marmellata o la confettura, ma vediamo gli abbinamenti perché abbiamo preparato dei cartelli, li commentiamo insieme. Il primo cartello, la ricotta con la marmellata d'arance, può essere un buon abbinamento dottore? Poi sulla ricotta chiederò qualche consiglio anche a Bazzana che è un esperto di tante cose. Può essere un buon abbinamento perché? Perché la ricotta diciamo ha pochissimi zuccheri, li andiamo a compensare con gli zuccheri della marmellata e quindi teniamo una complementarietà di nutrienti. E poi proprio l'accostamento di una frutta acidula vicino a un formaggio che è un po' più dolce, un po' più molle, un po' tramite sensoriale. Anche una persona anziana può tranquillamente fare questo abbinamento senza esagerare, con moderazione. La ricotta quanto è importante? Perché poi stiamo vedendo le marmellate, però poi se compriamo una ricotta di scarsa qualità estremamente industriale finisce tutto, insomma. Anche qua, ripeto, la valutazione è quella di andare a vedere che sia una ricotta vera, ovvero sia che sia veramente quel prodotto lattiero caseario che corrisponde ai requisiti definiti per la ricotta e quindi attenzione che non ci siano conservanti, che non ci siano degli additivi che fanno sì che questo prodotto, invece che essere un'eccellenza, sia un prodotto di scarsa qualità nutrizionale. Le domande che arrivano da casa. E allora innanzitutto volevo ricordare, i telespettatori se vogliono possono partecipare anche a loro, su Twitter abbiamo lanciato un sondaggio, insomma quale confettura preferite, ne abbiamo scelte quattro per diversificare un po', fragola, pesca, cipolla e fichi. Diversamente da quello che pensavo al primo posto c'è quella di fichi, pari merito al secondo posto fragola e cipolla e poi quella alla pesca. Ecco Giacomo, uno dei telespettatori ci dice che il suo abbinamento preferito è la marmellata, la confettura, anzi di fichi con il formaggio. Va bene o fa male? Va benissimo. Va benissimo, però attenzione, la confettura di fichi, dottore, è un po' calorica. No, più che altro ha un indice glicemico più alto perché ha meno fibra e quindi ovviamente per alcuni individui, come ad esempio la signora che ha fatto prima la domanda, la signora che soffre di iperglicemia, deve stare abbastanza cauta, deve andare abbastanza cauta. Bazzana, ma come conservarla? Perché ultimamente sono uscite anche tante, si chiamano blister, delle piccole mini porzioni, monoporzioni magari che possono essere utili rispetto al vasetto tradizionale, quello un po' più grande, perché la conservazione è importante? La conservazione è fondamentale perché comunque si tratta di una conserva vegetale come tale allo zucchero che ha la funzione di evitare che ci possano essere proliferazioni microbiche non desiderate. È chiaro che l'attenzione maggiore la si deve prestare nel momento in cui la si apre, per cui ci deve essere il tappo che fa clic, che vuol dire che comunque era sottovuoto, e nel momento in cui la si è aperta poi attenzione alla conservazione, nel senso che soprattutto se si tratta di prodotti magari fatti in sede casalinga, magari stando leggeri con lo zucchero per non sovraccaricare troppo il prodotto, una volta aperto il consiglio è quello di tenerlo in frigorifero. Sempre in frigorifero bisogna tenerlo? Potrebbe essere tenuto a temperatura ambiente, una confettura aperta, però ripeto il consiglio sarebbe quello di preferire il frigorifero proprio perché ci potrebbe essere un contenuto di zucchero magari più basso, se l'abbiamo fatta noi a livello casalingo, e quindi potrebbe non conservarsi in maniera adeguata a temperatura ambiente. Ecco, posso cogliere questo elemento che dice Bazzana, con meno zuccheri si rischia di più in qualche modo che quel prodotto si possa deteriorare. Quando compriamo un prodotto magari biologico, con scritto ci sono pochi zuccheri, bisogna stare maggiormente attenti? Sia alla conservazione sia all'utilizzo, cioè i tempi devono essere più rapidi perché insomma in qualche modo i zuccheri aiutano alla conservazione del prodotto? Sì, è chiaro che è un mix di zuccheri e della temperatura a cui è stata preparata questa confettura, nel senso che se la temperatura ha comunque raggiunto certi livelli è stato sterilizzato il tutto per cui il prodotto è sterile, quindi fra gli zuccheri e il prodotto sterile ci dovrebbe essere la garanzia soprattutto per il prodotto industriale, maggiore timore è per il prodotto casalingo. Tra pochissimo, allora il vero o falso, una battuta con il dottor Vissi invece su quelle con meno zuccheri, quali sono? Quelle con meno zuccheri sono, meno zuccheri nella frutta, sono sicuramente frutte come la fragola perché per quanto è un frutto abbastanza dolce ha meno zuccheri. È acquoso, è un contenuto di acqua. E poi un'altra cosa, bisogna stare attenti su queste, riagganciatemi al discorso di prima, su queste confetture, queste marmellate fatte a casa, perché noi a casa non riusciamo a raggiungere con i nostri strumenti della cucina i 121 gradi che uccidono le spore di botulino. Noi arriviamo massimo a 100 gradi, questo è... Quindi bisogna stare molto attenti. È il momento del vero o falso, Maris? Sì, allora passeremo poi a tutte quante le domande... Poi ricordiamo che dopo avremo un servizio molto interessante, possiamo... Non l'anticipare, non l'anticipare. Però diciamo, è un servizio in cui si racconta proprio la produzione fatta dai ragazzi che hanno delle problematiche e che grazie, insomma, a questa attività riescono ad andare avanti. Ma ne parliamo troppo. A creare delle cose dolcissime. E allora, però prima io vi voglio fare questa affermazione, ossia, secondo la normativa è vigente, la composta, solo la composta prodotta dagli agrumi può essere chiamata marmellata. Voi dite che è vero o falso? Scopritelo tra poco. Entriamo in studio. Allora, il vero o falso qual era rapidamente, Maris? Allora, stiamo dicendo che secondo la normativa vigente, solo la composta prodotta dagli agrumi può essere chiamata marmellata. Vero o falso? Dottor Vista, spieghiamo anche che cos'è la composta, che diciamo è un livello superiore rispetto alla confettura, no? Premesso che la composta non è disciplinata da alcuna norma, però è un livello superiore però per convenzione è sempre, diciamo, quella confettura o marmellata che ha più del 65% di frutta all'interno. Quindi, insomma, è bella ricca di frutta. Bella ricca di frutta. In questo caso abbiamo detto composta, quindi se per convenzione indichiamo che ha più del 65% e visto che è costituita da agrumi, può essere chiamata marmellata perché la legge dice che la marmellata è quella preparazione di agrumi che ha almeno il 20% di agrumi su un chilo. Banzana, quanti nomi di fantasia vediamo in un supermercato? Si sbizzarriscono tante che bisogna stare attenti quando vediamo queste cose un po' strane? Dobbiamo considerare che la legislazione e quindi l'etichettatura riporta alcuni picchetti per legge, per cui per poter essere chiamata confettura o marmellata abbiamo visto che ci sono delle regole. Alcuni operatori del settore facendo dei prodotti che non rientrano in questi canoni, che non rientrano in questi parametri, invece che utilizzare le definizioni di legge utilizzano altre definizioni per dei prodotti che sono simili ma evidentemente diversi, nel senso che non rispettano strettamente quello che è previsto per legge. Andiamo a Prato, vediamo questo servizio, c'è una cooperativa sociale Alice che produce le meraviglie di Alice ma l'aspetto più interessante che a noi interessa ancora di più oltre al prodotto di qualità è sicuramente la possibilità per ragazzi che hanno una disabilità psicologica di lavorare in questa cooperativa e quindi di rendersi attivi e produrre delle marmellate e delle confetture. Vediamo! Si chiamano le meraviglie di Alice e sono marmellate e composte realizzate da soggetti con disabilità mentali. Il laboratorio si trova a Prato dove opera la cooperativa Alice che è l'artifice del progetto. Sono cinque ragazze attualmente impegnate nel laboratorio che vengono seguiti da educatori, una psicologa e una tecnologa alimentare. Il progetto che nasce nel 2017 ha come obiettivo quello di favorire lo sviluppo delle competenze sia tecniche che trasversali legate all'inserimento laborativo. per soggetti con varie tipologie di svantaggio o disabilità, oltre che essere uno spazio dove poterli poi occupare a livello lavorativo effettivo. Le marmellate e le composte sono realizzate con frutto e verdura a chilometro zero ed esiste anche una linea di prodotti bio. Le nostre marmellate e confetture hanno solo materie prime, frutta e verdura di una filiera a chilometro zero. Non vengano aggiunti additivi o conservanti ma solo prodotti naturali tra cui alcuni ingredienti anche della filiera eco-solidale come lo zucchero e le spezie. Da luglio siamo certificati biologici mantenendo comunque anche la linea convenzionale sempre rimanendo nella filiera a chilometro zero. Le nostre confetture hanno la proprietà di avere una forte concentrazione di frutta quindi arriviamo anche a 100-130% senza aggiungere ingredienti come la pectina. I ragazzi si occupano dell'intera linea di produzione, dallo sbucciamento all'invasettamento. Qual è la tua marmellata preferita, quella che ti piace fare di più? Arancia, arancia e cannella, i vari gusti di arancia. Mi sto trovando bene, sono contentissima e felice di stare qui dentro. Sto imparando alla mia esperienza lavorativa, a stare bene con gli altri, a relazionare con gli altri, a imparare nuove cose. Le stesse etichette delle marmellate sono realizzate da altre persone con disagio seguite dalla cooperativa Alice. Il progetto ha già dato i suoi frutti anche a livello occupazionale. Questa vuole essere una palestra dove ci si allena e una delle nostre prime persone che hanno partecipato al progetto dopo un periodo di siricigno in esterno ha trovato lavoro in una mensa. E allora questa è la storia che abbiamo raccontato da Prato, ma ci sono tante domande. Marisa, rapidamente per i nostri ospiti. Sì, cerchiamo di passarla il più possibile. Allora Adele, la prima ci ha mandato la mail e dice io spesso uso le marmellate biologiche, però non riesco a consumarle in poco tempo e quindi chiedo ai vostri ospiti se davvero si devono consumare nel giro di poco giorni come riportato sull'etichetta. Bazzana? È chiaro che se è stata una confettura o una marmellata prodotta in sede industriale o comunque con un abbattitore, un pastorizzatore, è chiaro che qualche giorno in più potrebbe essere conservata. L'importante è che quando è aperta noi la rimettiamo nel frigorifero in modo tale a cercare di prolungare questa conservabilità, però teniamo sempre presente che è un prodotto vivo, per cui come tale può andare incontro a alterazioni. Ancora? Doppia domanda per Gioia che ci scrive su Facebook e dice dicono che la marmellata di arance e di agrumi sia meno calorica, è vero? E quanto può essere conservata una marmellata in frigo dopo essere stata aperta? Dottor Vista? Non è una regola. La marmellata di arance e la marmellata di agrumi per legge ha la possibilità di mettere meno quantità di frutta, quindi il 20%, però dipende da quanto zucchero ci mettiamo poi sopra. Ci sono le etichette nutrizionali. E quando sta scritto sopra senza zucchero bisogna stare attenti? Senza zucchero è praticamente impossibile, perché senza zucchero deve avere sotto lo 0,5% di zucchero. Solitamente c'è scritto senza zuccheri aggiunti, in quel caso non è possibile aggiungere oltre agli zuccheri della frutta altri zuccheri, però diciamo che senza zucchero proprio non è proprio possibile. Magari c'è scritto solo gli zuccheri della frutta. Solo gli zuccheri della frutta. E possiamo essere tranquilli? Beh, comunque sono zuccheri, quindi hanno quella funzione che dovrebbe avere lo zucchero che aggiungiamo. Quindi in qualche modo è più naturale, possiamo usare questo termine rispetto a quelle classiche tradizionali. Allora, Marce. Un'altra domanda a Margherita da Bari. Aiutiamola subito perché dice che ha trovato un barattolo scaduto da un paio di mesi, però non l'ha mai aperto. Quindi dice è ancora sotto vuoto. Bisogna tenerle, insomma, consumare preferibilmente, insomma, che bisogna fare? Parliamo di conserve vegetali. Cioè un conto è se noi abbiamo il termine consigliato di consumo della pasta o dei biscotti, che sono comunque prodotti stabili, prodotti che non hanno questa tipologia di problemi. Magari il biscotto sarà meno fragrante, magari lo spaghetto si sarà spaccato, però lo possiamo consumare. Dal punto di vista della confettura vegetale io non rischierei, nel senso che comunque è un prodotto che come matrice può sviluppare dei problemi. Il secondo cartello è stato scelto, i cartelli da Barbara, la nostra redazione, che insomma è appassionata e ha fatto questo abbinamento. Dottor Vista, vediamo se va bene. Pecorino e confetture di mele e cotogne. È il contrario dell'altro abbinamento, quindi va benissimo. Quindi un prodotto, un formaggio più stagionato, più salato, con una marmellata più dolce, meno acidula. E allora vediamo pure il terzo, così insomma abbiamo fatto questo percorso, così facciamo contenti un po' tutti, cacciotta e confetture di ciliegie. Una perfetta via di mezzo. Perché? La cacciotta ha un livello di stagionatura intermedia rispetto alla ricotta, che diciamo non è un formaggio stagionato, e il pecorino e la dolcezza delle ciliegie, dei duroni, anche intermedia rispetto a quella che abbiamo visto prima, che era l'acidità rispetto alle arance. Mangiarne sempre poca, mi raccomando. Una battuta e poi sentiamo le ultime domande. Quando si parla di gelatina, che vuol dire? Beh, la gelatina sarebbe in sostanza il prodotto trasformato utilizzando il succo di frutta. Quindi non la polpa, non la parte, diciamo, della buccia, ma il succo di frutta a cui viene aggiunto lo zucchero. E quindi in sostanza le gelatine sono composte con il succo di frutta. Comunque poi, Bazzano, la cosa migliore quindi è una composta, però voglio dire, senza, con i zuccheri naturali della frutta. La cosa migliore è sempre la frutta. Allora, noi ci siamo poi inventati tutti questi prodotti perché magari abbiamo, nei momenti in cui abbiamo tanta frutta, e ci piace cercare di conservarla. Quindi l'ideale sarebbe la frutta, perché la frutta tal quale ha sì gli zuccheri, ma non in una concentrazione così elevata, con le fibre e tutti gli altri nutrienti che conosciamo. Questa è una buona soluzione. Vedevamo le ciliegie, è lontano dal periodo delle ciliegie, però non bisogna abusarne. Maris. Francesca, su Facebook ci scrive, avendo problemi di intolleranza al glutine sono sempre attenta alla composizione e quindi preferisco solo quelle che mia madre prepara in casa. Beata lei Francesca. Come ad esempio quella di mele cotoni, di prugne, posso essere tranquilla con queste marmellate? Dottor Narevista. Ma io direi che può stare tranquilla anche su quelle industriali, perché il glutine non è un alimento, non è un componente contenuto nella frutta, né contenuto nello zucchero. Quindi tranne che ovviamente non vengano lavorati in stabilimenti in cui vengono lavorati i prodotti che contengono glutine, può stare tranquilla sicuramente anche sul prodotto industriale. Le nonne che vogliono dare un po' di marmellata o di confetture ai bambini, a che età è possibile iniziare a dare queste cose ai bimbi? Sicuramente quando il sistema immunitario è ben sviluppato, perché c'è un rischio comunque di spore, specialmente su quelle marmellate fatte in casa, di spore di botulino o di altri microorganismi che potrebbero creare complicazioni nel bambino. Domanda da casa? C'è Maria, ci manda una mail e dice, ecco, invece che cosa ne pensano gli esperti delle conserve? Ad esempio io trovo solo la conserva di susine di Montevulciano, che nell'etichetta dicono che ci sono solo susine al 100%, ecco, possiamo stare tranquilli, cosa ne pensano delle conserve di frutta? Bazzana, diamo un suggerimento. Dipende cosa intendiamo per conserve di frutta, perché ha detto così, conserve di frutta può essere tutto e niente, nel senso che non so se è frutta sotto spirito, se è frutta sotto zucchero, non so che tipo di conserva. Io direi che il consiglio è vedere quanta frutta c'è in quel basetto, più c'è frutta più siamo tranquilli. Se è frutta sciroppata, però il ragionamento è sempre quello di un prodotto che ha un profilo nutrizionale vecchio, cioè più zuccheri aggiunti ci sono e più comunque roviniamo un po' quel prodotto. Grazie a Lorenzo Bazzana, responsabile economico da Goldiretti, grazie al dottor Dario Vista, nutrizionista e curatore della rubrica Il Nutrizionista, sul mensile Il Salvagente, che vi suggeriamo sempre, perché fa tante belle inchieste, una proprio sulla marmellata e sulle confetture. Per questa sera è tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, buon proseguimento di serata. Dobbiamo salutare Tina da Napoli, a lei un grande bacione da tutta la squadra di Attenti al Lupo, noi vi diamo appuntamento domani alle ore 19 per parlare dei rincari dei conti correnti, quindi non perdete l'appuntamento di domani, arrivederci.